Bella raga, sono Femme Marulli e siamo al secondo video di oggi. E parleremo di una piccola teoria che ho sempre pensato io. Mai Junio si è potuto mai trasformare in un Nameciano God, una divinità, non una divinità. Si sono trasformati in Super Saiyan God e Super Saiyan Vegeta e Goku. E perché Junio non è mai potuto diventare una divinità? Fateci caso, come lo potremmo chiamare Super Namecian God? Fateci caso. Se lo vogliamo, raga, questo grandissimo Nameciano, come sarà? Pensiamoci. Mandatemi nella mia pagina Facebook la foto del Nameciano God Junior, così sapremo se può esistere oppure no. Perché Toriyama lo deve mettere in Dragon Ball Super. Comunque, vi dico pure che Freezer in Dragon Ball Super tornerà nel torneo del potere. Il titolo dell'episodio 93 è Tu sei il decimo guerriero, Goku va da Freezer. Praticamente, forse Ray Hammer darà un'altra possibilità a Freezer di fare qualcosa. E quindi, raga, voi state in questo video, Ant, Emanuele Sand, Cam Williams, Giuseppe Federico, Manuel D'Urbano, Heinish Matteo e Patrick Basileo. E quindi, raga, ci rivediamo a Simulio, ciao. C'è un raffreddore incredibile. Ok, ciao. Ciao. Grazie a tutti.